Ben ritrovati in studio per questa seconda parte di Free News. Come di consueto un nuovo appuntamento con il diario elettorale con ospite Davide Giacalone, candidato alla presidenza della regione siciliana con la lista Leali alla Sicilia. Vediamo questa nuova puntata registrata questa mattina prima della consegna delle liste. Oggi si chiudono le liste dei candidati, giochi alle 16 saranno fatti. Possiamo fare una valutazione del lavoro svolto finora dalla lista che lo sostiene Leali alla Sicilia? Allora, la chiusura delle liste, la presentazione delle candidature è uno degli esempi di burocrazia demenziale di questo Paese che serve solo ed esclusivamente a rendere più difficile la vita a quelli che vorrebbero fare qualcosa per la comunità. È ovvio naturalmente che non è che tutti che si svegliano la mattina possono presentare delle liste, altrimenti ci troveremo di fronte a delle lenzuoli al posto delle schede elettorali. È evidente che è giusto che ci siano dei cittadini che diano il loro sostegno. Quello che non ha senso è che ciascuna firma accompagnata dai documenti debba essere corredata da una serie impressionante di autentiche certificati elettorali. Ora, voglio dire, se io firmo la lista di un'altra persona e consegno la copia del mio documento, la semplificazione burocratica deve dire che la mia buona fede è salva. Poi dopo, ovviamente, si fanno dei controlli, magari a campione, la prima volta che trovo uno che non corrisponde alla data di nascita, che il documento non è vero, che non gode dei diritti politici, insomma, un'irrigolarità qualsiasi, prendo quell'elenco di firmatari, lo guardo con maggiore attenzione e semmai cancello la lista e li punisco anche, perché hanno tentato di prendere in giro l'elettorato, la pubblica amministrazione. Quindi sono favorevole alle sanzioni. Ma che tutti debbano prima dimostrare che l'elettore che ha firmato la lista è effettivamente vivo, è effettivamente residente, è effettivamente godente dei diritti politici, è veramente la cretineria burocratica. Finché riguarda le liste, amen, voglio dire, gente adulta è vaccinata, anche se stiamo correndo come pazzi. Però la stessa cosa capita con le imprese, con le persone che cambiano residenza, con i cittadini che hanno bisogno di un'autorizzazione, e questo è demenziale. Bisogna fidarsi dei cittadini e chi naturalmente imbroglia deve pagare. Dunque, i nostri telespettatori hanno ormai imparato a conoscerla in queste settimane. Intanto ricordiamo quali sono i siti attraverso i quali possono continuare a seguirla in questo ulteriore mese di campagna elettorale che ci attende prima del voto del 28 ottobre. Esatto, allora il sito principale, poi il nome è sempre lo stesso, è Leali alla Sicilia. Nel caso del web è www.lealiallasicilia.it, nel caso di Facebook è il gruppo Leali, nel caso di Peter uguale, su Facebook trovano anche il sottoscritto come Giacalone Presidente, la stessa cosa trovano su Twitter e sul web trovano anche www.davidegiacalone.it, quindi trovano più di quello che avranno voi in qualche modo di regge. Adesso comincia, da domani mattina comincia la campagna elettorale vera e propria, quindi tra l'altro comincia anche il regime di parcondicio, che significa che tutti i candidati, tutti i gruppi devono avere più o meno lo stesso, che teoricamente dovrebbe essere esattamente, ma insomma più o meno lo stesso spazio. E chissà che questo in Sicilia possa avvenire adesso finalmente? Io ne dubito, nel senso che in realtà il vantaggio economico spaventoso dell'investimento fatto in questo mese che abbiamo alle spalle, cioè a settembre, ovviamente lascia il segno, però io spero veramente che la necessità, l'obbligo del confronto, porti gli altri anche a parlare di qualcosa, e non solo di un sogno, una promessa, l'onestà, cioè sì vabbè, ma che si mangia oggi a pranzo? Ecco, se magari riuscissimo a parlare di cose concrete saremmo tutti più felici. Questo mese di campagna elettorale come intende sfruttarlo? Incontrerà sempre più cittadini? Allora guardi, io personalmente sarei ancora affezionato alle cose un po' d'antan, farei volentieri il giro delle piazze a incontrare i cittadini, ma non si usa più. Trovo che sia anche una cosa triste, nel senso che nelle piazze, nei bar, poi c'è il tessuto civile di un paese, quando parli per televisione o per radio, parli sempre tu e non ascolti mai quello che dicono gli altri dall'altra parte del televisore, invece è utile ascoltare o anche solo guardare in faccia, qualche volta si legge negli occhi quello che stai dicendo una cretinata e gli altri la percepiscono come tale. Però le campagne elettuali si fanno prevalentemente oggi in questo modo, noi però continueremo a fare ogni giorno, sempre, un comunicato stampa tematico, e con quello chiediamo, attraverso l'interazione di rete, mail, messaggi, il parere ogni giorno a chi ci segue. E ci occupiamo adesso del MUOS. Fine settimana ad enzo di appuntamenti, quello che si preannuncia in provincia. Domani infatti è la giornata regionale di mobilitazione contro il sistema di antenne satellitari. Tutto pronto per domani. In tutta la regione i comitati no MUOS si stanno organizzando in occasione della giornata regionale di mobilitazione contro il sistema di antenne satellitari in via di installazione a Niscemi. Anche la provincia di Ragusa risponde all'appello. Domani infatti il comitato di base no MUOS ha organizzato uno sciopero degli studenti delle scuole superiori con assemblea pubblica in piazza San Giovanni a Ragusa. Nel pomeriggio poi i membri del comitato si sposteranno a Comiso dove si incontreranno con gli altri comitati della provincia. Tutti insieme dalle 15 manifesteranno davanti all'aeroporto Casmeneo. Dalle ore 17 la protesta si sposterà in piazza Fontediana per comunicare con i cittadini, informarli e per raccogliere firme. C'è infatti uno stretto legame tra la mancata apertura dello scalo a Comiso e l'installazione del sistema MUOS a Niscemi. Le antenne satellitari infatti interferirebbero con le strumentazioni sofisticate dei velivoli. Ma il MUOS sembrerebbe anche molto pericoloso per la salute delle persone. Le radiazioni emesse dalle antenne infatti provocherebbero diverse malattie, anche gravi. Ma l'impegno contro il MUOS si prolungherà fino al prossimo sabato quando il coordinamento regionale dei comitati non MUOS organizzerà a Niscemi una manifestazione nazionale con tanto di corteo che sfilerà verso i cancelli della base militare. Un altro corteo in serata sfilerà poi in città fino alla piazza dove si svolgerà una manifestazione conclusiva della giornata. Ancora trasporto studenti nel primo piano. Ieri in prefettura a Raguse si è svolto un incontro tra i sindaci della provincia, la CUP Trasporti e i rappresentanti dell'Ast per poter risolvere una situazione ancora nel caos. L'Ast rinuncia al monopolio del trasporto studenti in modo da permettere ai comuni di rivolgersi a vettori diversi e possibilmente anche meno costosi. E quanto emerso dall'incontro di ieri pomeriggio in prefettura per esaminare la situazione critica del trasporto studenti a partecipare sono stati i sindaci dei comuni della provincia, i rappresentanti dell'Ast e della CUP Trasporti. Non si è dunque fatta attendere la risposta da parte del prefetto di Ragusa Cagliostro alle varie richieste di intervento per risolvere una situazione rimasta bloccata. Il prefetto ha dichiarato di volere coinvolgere Trenitalia e l'assessorato regionale alle infrastrutture i cui dirigenti regionali però verranno coinvolti in seguito. A loro sarà avanzata una proposta precisa, il coinvolgimento pieno di Trenitalia nel trasporto studenti e l'attivazione di abbonamenti a prezzo politico con il contributo della regione. I sindaci da parte loro hanno sottolineato come l'Ast non sia più in grado di assicurare nella sua totalità il servizio rendendo necessaria una gara d'appalto con altre ditte ma senza la rinuncia dell'Ast i comuni non riceveranno i rimborsi regionali che già arrivano con 3-4 anni di ritardo e non coprono nemmeno tutte le somme anticipate. Da Comiso e Vittoria è emersa l'intenzione di volere continuare a fare spostare gli studenti dei loro comuni con il treno che oltretutto costa di meno. La CUB Trasporti dal canto suo ha ribadito che il trasporto su gomma da chiunque gestito debba effettuare servizi da e per i comuni non serviti da ferrovia e si deve occupare dello spostamento urbano stazioni e scuole mentre il trasporto ferroviario deve essere l'unico vettore per gli spostamenti da quelle città in cui esiste una stazione ferroviaria. Il prefetto, sentiti i pareri di tutti gli intervenuti ha dichiarato di volere convocare un'altra riunione più tecnica a breve tempo. Seduta speciale questa mattina del Consiglio Territoriale per l'Immigrazione di Ragusa durante l'incontro si è svolto anche un seminario dedicato alla lotta alle discriminazioni. Si è svolta questa mattina presso la Salavis di Ragusa una seduta del Consiglio Territoriale per l'Immigrazione. Nel corso dell'appuntamento si è svolto il seminario conclusivo del progetto europeo Discrimination in Cities dedicato alla lotta contro la discriminazione. In particolare il seminario il cui tema era Consiglio Territoriale per l'Immigrazione qual è il ruolo nella promozione dell'eguaglianza ha avuto come obiettivo quello di analizzare il ruolo e la potenzialità del Consiglio Territoriale per l'Immigrazione nel promuovere l'eguaglianza nel territorio di Ragusa. All'ordine del giorno inoltre la presentazione dei progetti a valenza territoriale ammessi al finanziamento in provincia di Ragusa a valere sullo Fondo Europeo per i Rifugiati e sul Fondo Europeo per l'Immigrazione. Il Consiglio Territoriale è poi proseguito con un focus sulla procedura di emersione dei rapporti di lavoro irregolari subordinati riguardanti tutti i settori lavorativi che ha avuto avvio il 15 settembre ed è in corso di inserimento fino al 15 ottobre. Bene, per questa edizione è tutto vi ricordo che potete seguirci pure sul nostro sito fritvallano1.it e sulla nostra pagina Facebook Fritv Comiso. Vi auguro una buona serata. Grazie a tutti i nostri spettatori